Quando ci siete partiamo Quando volete Ma io non so il tema Eh te lo spiego Ah dura, ah ok Ti sei? Ah scusa Come a scuola Eccoci qua Abbiamo deciso di fare qualcosa tutti insieme Senza Lello perché Colpo Gobbo ci sta un po' sulle palle Quindi non lo volevamo in questo video Giusto così penso Ci siamo tutti Tranne Lello che Non c'è bisogno di puntualizzare Siamo tutti Esatto esatto Giusto giusto Non so perché sono arrivato Ok presento i miei ospiti Kino e Davom Trovate i loro canali Taggati all'interno della descrizione di questo video Oggi siamo qua Per fare una chiacchierata Tutti insieme Non so nemmeno quanto verrà lungo questo video Ma spero che possiate apprezzare Un po' di contenuto diverso Anche in questo periodo di pausa nazionali Ci saranno tre domande Che vi voglio fare Tre domande secche Perché anche voi non sapete ancora Quali sono le tre domande In realtà Di Davom qualcosina so già Perché è un argomento che affronta Nei video O che ha affrontato nei video Dei punti che ha già trattato Kino invece Non ne ho la più pallida idea Quindi Proverei proprio a partire Da Kino Dato che è una cosa nuova Con la prima domanda In assoluto Questa Juventus Dove arriverà fino all'anno? Nei primi quattro ci arriva? Eh spero Spero più che altro No però Basta Finito il video Ci stiamo piano piano Riprendendo Quanto meno a livello di punti Ok Si augura di avere ovviamente Una costanza Che probabilmente È anche la cosa Che spaventa di più Ma al di là della speranza La tua previsione È che questa Juve Possa arrivarci Nei primi quattro Oppure no? Penso di sì Penso che gli ultimi Dieci giorni Mi abbiano dato Quanto meno un pochino Più di consapevolezza E dieci giorni fa invece? Non lo pensavi? Dieci giorni fa Era più difficile Perché purtroppo Tocca analizzare No per capire Per capire Perché Io Eh ma io la sera Che pareggian col Milan Nel video dico Secondo me arriviamo Nei primi quattro La gente impazzisce E mi dice No ma cosa dici Impossibile Impazzisce Nei tuoi confronti Fa bene Giustamente No vabbè Ma al di là della percezione Degli ultimi dieci giorni Tu eri convinto Di non arrivarci Quindi dieci giorni fa Invece adesso vedi cose Che ti fanno pensare Di sì Più che altro C'era una divisione No? Eh perché Prima dell'inizio Sembrava addirittura Che dovesse essere Quasi uno scudetto scontato E tornato allegri A posto È vero Poi Però comunque Eh Il giù Il campo È il giudice sovrano È il campo Nel primo mese Ci ha dato Delle Delle indicazioni Di un certo tipo Non Magari tragiche Ma Nel senso Qui tocca Mettersi in piano Il prima possibile E bisogna Tirare fuori i coglioni Il prima possibile Tocca trovare Una linea Che pare Ultimamente Si sia presa Poi Ovviamente Magari Vi a vincere Col Chelsea 1-0 E vai a perdere Con l'Empoli È una cosa Che potrà accadere Anche Eh ma perché Io e Davom Non eravamo allo stadio Col Chelsea Con l'Empoli sì Quindi giustamente Abbiamo perso Con l'Empoli no No ma a parte tutto Sai Adesso c'è Probabilmente Più consapevolezza Forse Si sta iniziando A vedere La mano di Allegri Nel bene o nel male Tanto è un tema Che dividerà Sempre tutti quanti Ma C'è scritto Juventus Punti 3 Comunque Prendi E porti a casa Poi sai Bisogna anche Considerare Che ci sono Quelle 3-4 squadre Che Quando meritano Vincono Magari anche Dilagando Quando meritano Un pochino meno Bene o male Riescono sempre A portare Il risultato a casa Quindi bisogna vedere Se effettivamente Quelle 3-4 Lì davanti Poi ad un certo punto Avranno uno stop E lo sliding door Potrebbe essere anche La Coppa d'Africa Per il Napoli Per il Milan Per squadre Che hanno giocatori Importanti Impegnati Per un mesettino In nazionale Davom Sì Secondo me Riusciamo ad arrivare Tra le prime 4 Sì Secondo me Non a vincere Il campionato Ma credo che Tra le prime 4 Ci arriveremo Perché Gli ultimi 20 giorni Secondo me Han dimostrato Che Allegri Abbia già fatto Un mezzo miracolo Per il modo In cui si è riuscito A legare Delle individualità Che secondo me Erano molto slegate Fra di loro Fino a Appunto Fino a 20 giorni fa Perché se penso Alla sua espressione A quella di Chiellini Ventus Empoli E io te eravamo Allo stadio Siamo questi Esatto Con dei giocatori Che veramente Sembravano ognuno Con una casacca diversa Cioè Una partita Inspiegabile Veramente Siamo riusciti A beccarci a noi Dal vivo E Se guardo Quella col Chelsea E quella col Torino Secondo me Sono due squadre Diverse Cioè Se un extraterrestre Viene qua Guarda quella partita Guarda quella col Chelsea Col Torino Dice qua Sono passati Due anni Di mezzo Cioè Cioè Non per il bel gioco Ma per Lo spirito di sacrificio Per l'identità Per le idee chiare Per il fatto che tutti Andassero nella stessa direzione Quello secondo me È un grandissimo risultato Perché senza di quello Non puoi Dopo parlare di moduli Non puoi parlare di tattica Non puoi parlare di bel gioco Non puoi parlare di giocatori Cioè Quello secondo me È la fondamenta Per Una qualsiasi squadra Che punta a vincere E credo che a Lega Negli ultimi 15 giorni Mi ha fatto un grande lavoro Io Prendo il tuo assist L'hai fatto te Non sapevi la domanda successiva Ma hai già fatto tutto te Sembra di più Non puoi tirare fuori la carta Oh hai toccato tutto te Hai fatto tutto te No al di là di questo Io la tua risposta la so già Però voglio capire Perché Tu la pronunci Perché so Quale sarà la tua risposta Ma il tuo linguaggio del corpo Tradotto Le parole che hai usato Adesso Ti smentiranno Ti smentiscono Ok Perché tu E adesso Questa è la domanda Che farò anche a te Tu sei uno di quelli Che mi dice Siamo da zero titoli Non vinciamo niente Quest'anno Che trofei ti aspetti Quanti trofei ti aspetti Dalla Juve quest'anno Tu sei da zero titoli No? Però mi hai parlato Di vincere Adesso Hai detto tu La parola vincere È vero È vero Quindi? No Ok Ho usato la parola vincere Perché Perché io mi sto impegnando Lo so che è una domanda brutta Ti ho messo in difficoltà Le sono consapevole Voglio capire Mi hai ingabbiato Mi hai fatto un Un raddotti di marcatura Come dice Dazò Non si fanno più Non si fanno più Non si fanno più L'ha detto 7-8 volte Sono impazzito lì Va bene Detto ciò Per collegarmi Che ho perso il filo No Secondo me è zero titoli Ma mi sto impegnando Da tifoso A ragionare un pochino di più Sul lungo termine Ok E ci sta E quindi credo Che il progetto Allegri Possa essere realmente Finalmente Di lungo termine Credo che questo progetto qua Possa tornare ad essere Molto vincente Perché credo che in prospettiva Sia molto valido Però credo che oggi Non sia pronto Per portare a casa Un campionato Perché poi è vero La Coppa Italia È sempre un trofeo E quello è Un torneo a parte Quindi Come dire Potrebbe essere anche Quella consolazione Quel contentino Come è stato lo scorso anno Dobbiamo giocarci anche La Supercoppa Quindi anche quella Eventualmente Una partita secca Potrebbe essere un trofeo Io sicuramente Quando parlo di Juventus Parlo di trofei Mi riferisco Champions A campionato E Champions Ecco diciamo così E secondo me Questi due Non sono fattibili Quest'anno Poi L'ho detto anche Nel mio ultimo video Se uno va a vedere L'albo d'oro Della Champions League Non c'è un nesso logico Tra le squadre Non c'è un continuità È impossibile trovare continuità Quindi dico Boh Le ultime due squadre Tra l'altro Hanno vinto la Champions Che sono Bayern e Chelsea Con un allenatore Subentrato a gennaio Quindi figuriamoci Se quelle squadre Nel momento in cui L'allenatore Era stato esonerato Si potessero aspettare Di vincere la Champions League La massima competizione Quindi dico Vediamo Godiamocela Gustiamocela Io sono molto contento Delle ultime uscite Ma non credo Che questa Juve Sia pronta Per vincere il campionato E la Champions Quest'anno Ma poi a me fa sempre ridere Questa roba della Champions Perché anno dopo anno C'è la moda Quando vinceva il Barcellona Era Si vince adesso Solo col Tiki Taka Quando hanno vinto Liverpool e Chelsea Adesso si vince solo Di intensità Anno dopo anno Sembra che il calcio Sia così veloce Ad evolversi Che si può vincere Solo in quel modo lì Però poi Magari ti attresti Per fare quella roba lì L'anno dopo Non va già più bene Infatti Questa è proprio moda Questa è una razione errata Nel calcio sappiamo Che si cambia veramente Parere ogni 24 ore Guarda anche Per ultimo Ieri sera In Juve e Chelsea Bonucci Difensore fortissimo Sta superando Chiellini Ha dimostrato Di stare senza Chiellini Ieri Si vede tutta la differenza Tra Bonucci e Chiellini Si cambia veramente Parere ogni 24 ore Kino Zero titoli Triplette Ma intendendo I titoli di Davom Cioè Le due competizioni O le quattro Cosa ti aspetti No beh Le Diciamo che Supercoppa e Coppa Italia Sono ovviamente Due competizioni a sé Quindi ci può stare Tra l'altro Una deve ancora iniziare Quindi Fai fatica proprio A fare un qualsiasi tipo Di pronostico Ma sulla carta Potresti Supercoppa Partita secca E come va va Per quanto riguarda Soprattutto Champions E Scudetto Io la Champions Non l'ho mai vista E anche per sbaglio Quindi non prendo neanche In considerazione L'idea Di poter Beh tu eri piccolo Avevo quattro anni Io ero nelle palle Di mio babbo Io non capisco neanche adesso Figurati quando avevo quattro anni No no Non si mancherà Per quanto riguarda Invece il campionato Secondo me La linea di pensiero È molto simile A quella della domanda precedente E secondo me Quest'anno Bisogna anche fare Una considerazione Di un altro genere Vedendo che Siamo già A rincorrere E tra l'altro Anche una decina di punti Che non è proprio scontata È che A prescindere Comunque Da quello Che farà la Juve Stesso discorso Di prima Continuità Risultati E quant'altro Devi vedere anche Se le sette vittorie consecutive Del Napoli Sono una casualità O riuscirà ad avere Un certo tipo Di costanza Non è che magari Sei lì Due tre punti Pari merito Più uno Più due Sei sotto di dieci Quindi comunque Sono Sono praticamente Quattro sconfitte Del Napoli E quattro vittorie Tue Con lo stesso Cammino in mezzo Non è proprio Scontatissimo Ecco Tra l'altro Qua vorrei Vorrei anche Integrare una con Una considerazione Perché l'anno scorso Noi giustamente Tifosi della Juve Siamo ben abituati In campionato Ad avere un certo Rullino di vittorie E mi ricordo Che l'anno scorso Tutti noi Continuavamo a dire Eh ma perché stasera C'è Milan Atalanta Quindi perdono Tre punti Cioè che in realtà Noi eravamo Dei disgraziati E noi mezz'ora dopo Anzi no Mezz'ora prima Nell'anticipo Andavamo a perdere 0-1 in casa Col Benevento Allora dico Qua è giusto Anche il discorso Di Chino Che dice Non so se Napoli Finto Vero Oppure non so cosa Sono dieci punti Ma io dico Ma al di là Di dieci punti Che secondo me A ottobre Sono comunque Hanno un significato Diverso Non dico irrilevante Ma diverso Esatto Cioè io proprio Non mi fido Di questa squadra Perché ci sono Dei giocatori Che secondo me Non riescono A avere quella costanza Che richiede Una stagione Così lunga La Juventus C'è un maestro In panchina Che da questo punto di vista Potrebbe compensare Grandi lacune Però Non mi fido Al cento per cento Ecco Perché Se vado a vedere Qualche titolare Magari Specialmente Nel solito reparto Che è il centrocampo Ma anche in attacco Se vogliamo Lo stesso Morata Non è uno di quei giocatori Che dice Cazzo questo qua Mi fa Mi fa questi venti gol Che allora sì Mi porta Quei punti pesanti Non ho quella percezione Sai perché era Questa domanda Per metterci anche Un po' più in difficoltà Nel ragionamento Nel senso L'anno scorso Noi arriviamo Quarti All'ultima giornata Per il rotto della cuffia E portiamo a casa Due titoli Però comunque Ci qualifichiamo Alla Champions E portiamo a casa Due titoli Se oggi A ottobre Ti metto sotto Un contratto Da firmare Che arrivi Nei primi quattro E vinci Coppa Italia Supercoppa Oggi firmi? No E ti aspetti Zero titoli Sì Quindi vuol dire Che Ma perché io Perché io Ho una considerazione Del signore In panchina Che Ed è qua che volevo Arrivare La squadra è più scarsa Dell'anno scorso Perché lo sappiamo È più scarsa Di quello dell'anno scorso L'allenatore è più bravo Rispetto a quello D'anno scorso E torniamo al video Che avevamo fatto Dove c'era L'Ele Lonchino Di quanto impatta Un allenatore E all'epoca c'era Cristiano Ronaldo Quindi questo confronto Non lo potevamo fare Tu mi stai dicendo quindi Che Allegri impatta più Di Cristiano Ronaldo Io Tradotto Sì Allegri impatta più Di Ronaldo Ma perché in quello stesso video A cui tu ti riferivi Con Lello Io dicevo anche Io sono del partito Di Marotta Che dice Se io ho 100 milioni Li investo Nel grande allenatore Non nel grande giocatore Io sono d'accordo Tutta la vita Ma veramente Tutta la vita No Ma sai perché Mi fa strano Io non ho ancora Una risposta A questa domanda E ve la sto facendo Perché non ho Una risposta Faccio Una somma Che non ha Nemmeno senso Però Allegri più Locatelli Significa che è maggiore Di Piero più Ronaldo Perché Bene o male Questo è La grande differenza Tra le due Juve Quest'anno E l'anno scorso Non c'è tanto Di differenza Detto così Fa più effetto Hai capito Perché dopo magari Limiti lì dentro Anche Locatelli Però No è un riassunto All'osso Guarda se vuoi Te lo riassumo di più E mi risulta anche Più naturale dirlo Ho paura Per me Allegri Per me Allegri È maggiore Di Pirlo più Ronaldo Ha solo Allegri da solo Sì Eh è tanto questo Tecchino cosa dici invece In questo discorso matematico Intanto bisogna aspettare Fine stagione No no certo Però A ottobre Pesano questi ragionamenti Secondo me Perché Ancora di più Per come siamo partiti E di come stiamo recuperando Anche in un certo modo Che non a tutti va genio Però vorrei capire da te Tu saresti contento Di quarto posto Più due titoli Che sono Coppa Italia E Supercoppa Allora ti dico sì Soprattutto poi Se si mettono Basi importanti Per la Juve del futuro Ok Quindi sei disposto Ad aspettare Servicare una stagione Eh beh sì Anche per forza Quindi nel senso Però soprattutto Come dire Ok abbiamo vinto Coppa Italia E Supercoppa Però magari A differenza Dell'anno scorso Che abbiamo vinto Le stesse cose C'è una base Importante Per la Juventus Del futuro Cosa che quest'anno Per l'ennesima volta È stata totalmente Ricostruita La base Per il futuro Di nuovo È tornata Allegri Per rimettere Delle fondamenta Quindi Scudetto E Magari Quindi Coppa Italia E Supercoppa Con delle fondamenta Per il 2022 2023 Ma firmeresti? Oggi firmeresti Per queste due cose Per queste tre cose insieme Supercoppa Coppa Italia E almeno Quarto posto? Ma ciò Se mi dici Quello lo vinci sicuro Se non firmi Quelle due le vinci sicuro Puoi vincere lo scudetto Come uscire Esatto Ti dico Firmi? Perché io Io sono come Davom Io non firmo Perché c'ho ancora Nella testa Quella Quella follia Che il campionato Non può essere chiuso a ottobre No no Quello ci sta assolutamente Però che cazzo Firmo? Anche a meno 10 Io non firmo Però mi dai anche Le garanzie delle fondamenta? Va bene Le fondamenta penso che le metterai in ogni modo Nel senso Anche se vinci lo scudetto Per dire E fai un'altra stagione disastrata Che poi devi ricostruire tutto Per l'ennesima volta Quindi mi stai dicendo che Pesa di meno Allegri O pesa di più Allegri Rispetto all'equazione che abbiamo fatto prima Con Pirlo e Ronaldo No no Io la condivido Che pesa più Allegri Locatelli Che Pirlo e Ronaldo? Spero anche di sì Cioè occhio Qui stiamo parlando Di uno dei giocatori più impattanti Nella storia del calcio recente Però allo stesso tempo È uno sport di squadra No certo È per capire i ragionamenti Per andare dentro Ai ragionamenti Alle parole che Solitamente noi diciamo Te invece ludici no? No io ti dicevo Non ho ancora una risposta A questa domanda Ma Io anche l'anno scorso Sono di l'idea Che la squadra L'anno scorso Non fosse una squadra A quarto posto L'ultima giornata Tuttora se ci penso Secondo me Quella squadra Non era Tanto meno dell'Inter Era meno dell'Inter Col seno di poi All'inizio non avrei detto Così Ma non di tanto E nonostante Pirlo E Ronaldo E quella squadra Secondo me Almeno In lotta Un po' come ha fatto il Milan Quindi almeno fino A febbraio Marzo Ci doveva arrivare E secondo me Allegri Con quest'atteggiamento Che ha Allegri Del Attenzione Mattoncino dopo mattoncino Un mattoncino Forma una casa Un domani Un investimento sul domani Io non riesco a dare Chiuso il discorso scudetto Al 7 di ottobre Per questo che ti dico Secondo me Pesa tanto di più Allegri Nel costruire un campionato Piuttosto che Cristiano Ronaldo Discorso diverso Un Champions Dove Adesso Ci sarà la terza domanda Che è Federico Chiesa E Manuel Locatelli Che cosa sono? Qual è il livello vero Di questi due giocatori? Chi va? Ah chi volete? Vai perché devo pensarci Se tu ne hai una Ne hai una pronta Vi dico la mia Se volete prima Vai Perché io ho l'impressione Che Chiesa Sia veramente Alto di livello Anche in ambito europeo Ma alto 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 Locatelli È un giocatore Non dico normale Perché non è vero Ma leggermente Sopra la media Ma che inserito In un contesto Come il nostro Centrocampo Ci sta facendo vedere Quanto è deficitario Il reparto Per un giocatore Che ripeto Non è così forte Ma è estremamente forte Da noi Questa è la mia sensazione Guarda Secondo me è perfetta Sì Guardi ti dico Secondo me Chiesa è proprio Un fenomeno totale Lo metti in qualsiasi Contesto europeo Che sia nazionale Che sia Champions League Ed è probabilmente Stato L'ultima parte Della scorsa stagione Quest'estate E in queste In quest'inizio europeo Probabilmente È la persona Più decisiva O una delle Riconosciuto Universalmente Per quello Io ti dico Prendo Chiesa Penso a tutte le squadre In Europa Dove non gioca Titolare Chiesa Non mi so dare una risposta Te ne dico 4-5 Con Locatelli Almeno 4-5 Secondo me sta giù Poi Magari può entrare Ma Per intenderci Chiesa Il Chelsea Campione d'Europa In carica Ci fa il Pensiero Su metterci 100 milioni Campione d'Europa In carica Anche il Bayern Monaco Locatelli Se non punta I piedi Perché dice Voglio andare Alla Juventus Le squadre Che lo cercano In questo momento Sono Arsenal E Borussia Dortmund Che poi è ovvio Che magari Dopo una stagione Fatta bene Alla Juventus Possano arrivare Altre Mi va bene Ma secondo me Il grande passo Di Chiesa È stato Giocare nella Juve E con i giocatori Che c'erano nella Juve Perché giocando In questi livelli Aumentando il livello Chiesa mi sembra Veramente Non so se seguite Dragon Ball Quando un Saiyan È in fin di vita E poi torna a posto Si alza il livello Cioè Chiesa Più si alza il livello Più diventa forte È una roba Assurda Ma voi pensate Voi pensate Con queste domande Diciamo Vi do anche la risposta Voi pensate A Crottone Juventus Dell'anno scorso Esordio No ragazzi Ma questo qua È un altro Io ne parlavo anche stamattina Sul mio canale Ma Questo qua è un altro giocatore Ma Totale Ma E rubo Le parole di Paolo Di Cagno Dell'altra sera Dal club La giocata Che ha fatto Sull'assist Per Locatelli Nel derby Che voglio dire È uno stop Con passaggio Non è Tunnel Veronica Tiro al vuone È una giocata Che l'anno scorso Non avrebbe mai Fatto Perché lui L'anno scorso Stava là Aperto Chiamava la palla Se non gli arrivava Non gli arrivava Non è che si muoveva Adesso questo qua È un giocatore totale Ma anche ieri sera Che partita ha fatto Tra Spessi e Spagna Penso i due gol Che nascono da Chiesa Tra Spessi e Spagna Non riesco a trovare Un singolo giocatore Nel mondo Così cattivo A crederci Che si faccia gol Dal niente Juve Cersi Quel taglio Che fa dopo 20 secondi Dove magari Gli altri 20 giocatori Erano ancora Negli scogliatoi Quel taglio Che fa È da prima punta Ma Il problema è questo Chiesa Riesce a creare Un'occasione pericolosa Che si tramuta Anche in gol Quando tu Non ti stai aspettando Che la Juve Possa fare gol Questo giocatore Sta imparando Ed è la cosa più importante A giocare Nella zona centrale Del campo Quasi da mezza punta Che è diverso Da giocare sull'esterno Ma perché Sull'esterno Crei molte meno occasioni Poi sei più pericoloso Ma è quando entri dentro Che lì cominci veramente A tirar fuori Assi Ste gole E ti dico Ti dico A che livello sono Chiesa oggi È già Ad un livello Molto alto Tra la scorsa stagione Ed inizio di questa E gli europei Ragazzi Perché questo E questo che ti dico Questo ha vinto in europeo Questo è un livello Molto alto Ma tant'è che In tutta Europa Cominciano ad accostarlo A certi nomi Per quello che ti dico Volevo capire Se eravamo lontani Da qui Oppure no Non è che siamo noi Che siamo Ragazzi Se questa è la strada Di crescita Chiesa non può Che arrivare lì Cioè Mbappé Quando è che diventa Mbappé Che diventa davvero Mbappé Quando vince il mondiale Vince il mondiale La vera differenza Lo fanno i numeri Poi Se Chiesa Riesce ad assestarsi Sono duroni diversi Anche Assolutamente sì Assolutamente sì È vero È vero No no Certo Certo Per quanto riguarda Locatelli Ti dico Per me è fortissimo Per me è devastante Cioè Io l'ho visto L'ho visto Due anni fa Sassuolo era qua L'ho visto l'anno scorso Sassuolo era qua L'ho visto l'anno scorso L'europeo ed era qua E i primi due mesi La Juve è qua Ma ieri Ieri come è entrato Locatelli? Ieri non l'ho vista La partita Adesso è solo la fine Sono entrati lui E Pellegrini Hanno portato avanti Il baricentro Di dieci metri Cioè Devastante ragazzi Questo qua Secondo me è devastante Oggi non è sufficiente Oggi ancora Cerbo Sicuramente avrà un periodo Di down anche lui Ne sono convinto Al cento per cento Che avrà un periodo di critiche Ne sono assolutamente convinto Ma se gli costruisci Il centrocampo attorno Secondo me Questo qua diventerà Devastante Ma è quello infatti Il mio ragionamento Secondo me Come ripeto È un giocatore molto forte Ma non Possiamo dire fortissimo Per la Juventus Per il centrocampo Per la Juventus Possiamo dire fortissimo È quello che Comunque dicevamo Quest'estate Ti ricordi Molto forte Fosse vero Dio Vedendo chi abbiamo Però magari Per svoltare quel reparto Non serve Sì ma Volevo arrivare lì Volevo arrivare lì Io vedo già delle differenze Abissali Con solo Locatelli Ma delle differenze Grosse rispetto all'anno scorso Ragazzi L'anno scorso Se facevamo partire La segna da dietro C'era a fare il segno Della croce Perché Bentancur Si nascondeva Perché Arthur Se l'andava a prendere La giocava in orizzontale Secondo me Le vedi Secondo me Le vedi La differenza Tra lui e gli altri Certo Perché il reparto Purtroppo è ancora Un po' fermo lì Ma perché lui Giustamente non può Far tutto Ma lui Anche Lui sta mettendo fuori Una differenza Tra lui e gli altri Giocatori Che gioca in fianco Ma lui va a prendere Il pallone Lui va a prendere Il pallone Gestisce il pallone Anche perché Comunque Cambia la squadra C'è da dirlo Dato che siamo entrati A tema Tre vittorie In campionato Nella prima Salve il gol Del 3-1 Sulla linea Nella seconda Nella seconda Fa il gol Del 3-2 Nella terza Fa il gol Del 3-1 Poi 3-2 E fa anche l'assist E fa anche l'assist E ti posso aggiungere Anche il paraggio E l'assist È vero Posso aggiungerti Anche il paraggio Col Milan Dove a 92esimo Fa quella rincorsa E in scivolata Intercetta il cross Credo di Callum Sì Però col Milan Dopo ti devo aggiungere Che l'uomo Lo perde lui Ed è quello Secondo me Il suo grande limite In questo momento E se vi ricordate Mi pare Anche proprio In qualche circostanza Anche nei calci d'angoli Della Ajax No 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 Comunque Ieri è successo ancora C'è stata un'altra volta Che l'ha riperso E lì ho proprio pensato Ai Allora Non è stato un caso È che oggi Locatelli Quella cosa lì Non la sa fare E forse si spiega Perché ci sono Bentancur e Rabiot In campo Insieme a Locatelli Perché Locatelli Sta dando un po' di geometria È vero Ma lo sto vedendo giocare Molto l'interditore anche Sta facendo molto schermo Davanti alla difesa E Allegri in questo momento Sta mettendo muscolo Sì 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 Poco fosforo Ed è per quello Che poi sarò curioso Di vedere con Arthur Però guarda Sono comunque Sono giocatori Che vivono di calcio E che pensano al calcio Cioè Li vedi Che loro lavorano Veramente per diventare I numeri uno In i rispettivi reparti Lavorano per diventare Bandiera della Juventus Lavorano per diventare Grandi giocatori E quando c'è questo Secondo me dopo Se c'è ovviamente Il talento Che ti supporta Però Credo che possiamo stare Anche abbastanza tranquilli Sulla loro crescita Perché sicuramente Avranno dei cali Perché sono comunque Ragazzi giovani Ma poi quando c'è Questa dedizione Dopo comunque Magari ci sono alti e bassi Ma il trend È sempre in crescita Ecco Vi faccio l'ultima domanda Per concludere Proprio in riferimento A questa cosa qua Io qualche tempo fa Li ho paragonati Per sensazioni Che mi stanno dando E anche affetto Nei quali Sto veramente A Pogba e Dybala Quando c'erano insieme Pogba e Dybala Cioè Inizio a volerli bene Come volevo bene A quei due lì In quel momento Non so se Anche per voi la stessa Ci sta Allora forse Locatelli ancora Un qualcosa Deve conquistare Perché Chiesa Comunque A livello di cuore Di sentimento Nonostante Comunque Ce ne fossero Cazzo di centrocampisti Così Però Cioè Io a Pogba Lo adoravo Alla follia Per fare Un confronto Però Pogba Lì era al quarto anno Quando arriva di Dybala Locatelli Ai primi due mesi Esattamente Per quello E semplicemente Quello è il motivo Chiesa Chiesa Sì Io lo sto Amando Ma lo sto amando Soprattutto Per quello che era Il mio pensiero Prima del suo arrivo Non lo ricordo Non lo volevi assolutamente Perché quando mi fai Totalmente Ricredere Io ti adoro Lì mi hai conquistato Non c'è un cazzo da fare Per me è stato così Allegri A me non piaceva minimamente Allegri nel 2014 Anzi Quando scelgono Allegri Come sono impazziti Sì Era un pensiero molto generale Beh infatti Infatti comunque L'arrivo Ce lo ricordiamo Sì 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 Noi Allegri Non lo vogliamo Io dico soltanto che sono giocatori Che mi fanno veramente godere Cioè mi fanno godere Quando li vedo giocare Proprio godo Da appassionato di calcio Godo per Perché come fai a non godere Obiettivamente Questi qua Questi qua si mangiano Si mangiano l'erba Tutte le volte che scendono in campo E alla fine Noi tifosi Più o meno Basta anche quello Perché Quando vedi uno Che poi dà tutto per la maglia Alla fine Tendi anche a perdonarli Magari l'errore tecnico O la prestazione sbagliata Certo Quando ci sono quelle due cose lì Credo che sia veramente La cosa La cosa più importante E prima di chiudere invece Sono curioso invece Faccio una domanda io adesso Cos'è? Non è che puoi Prendo le redini Prendo le redini Sul canale di Luca Toselli Vi manca Cristiano? Umanamente no Ma Io avevo iniziato Da un po' Anche il giorno che Fa la presentazione di Locatelli Faccio un video Che si chiama Locatelli mi ha fatto innamorare Cosa che non ha fatto Cristiano Cristiano non mi ha davvero mai Fatto innamorare Come Come uomo In campo Avere il Cristiano in campo Sai benissimo Che in qualsiasi momento Anche lanciando il pallone lungo Fai gol In campo mi manca Cioè ci sono dei momenti In cui mi chiedo E ora come facciamo a fare gol? Ma me lo chiedo proprio L'idea Di non avere più Cristiano Ronaldo Però il Ventus invece Non mi dà fastidio Per niente Anche perché vedendo come se n'è andato È giusto che Se non ne aveva più voglia lui Semplicemente In campo si tantissimo Sì direi che bene o male la risposta è quella Che tra l'altro mi sarebbe piaciuto Vederlo nel ruolo Dove adesso sta giocando Manchester Tra l'altro che anche lì È una roba che Che vabbè che l'anno scorso Si ha fatto quello In quel caso se tu mi dici Ti banca Ronaldo Magari come prima punta Che sai veramente che Se ti va male Parti dall'1-0 Sì che mi manca Perché è abbastanza interno All'8 Ma anche Manchester Non so se hai visto le partite Fanno delle partitazze tremende Che sembra che non ci saltino fuori E poi c'è Ronaldo Mi ricorda qualcosa Ah sì Sì no esatto Ma infatti guarda Era giusto l'ultimo step Secondo me quel Manchester Cacciara totale e preghiamo Che poi è incredibile Vedendo i valori tecnici individuali Di giocatori che ci giocano Perché Lillio è veramente alto Noi siamo stati anni a dire Il centrocampista non gliela passa E qua ti chiudo il cerchio Vedi perché dico che Allegri è maggiore di Piro più Ronaldo Perché ragazzi Finché c'è Solskjaer In panchina al Manchester Mi dispiace dirlo Quindi Allegri lo United con Ronaldo? Va via Il Ronaldo va via A me manca il suo fascino A me manca il suo fascino Perché averlo in squadra E vederlo in campo Per me era sempre un grande orgoglio Un motivo di grande orgoglio Poi insomma calcisticamente Ti regalava delle perle Che soltanto lui ti può regalare Però ecco Ho seguito tanto il Manchester Quest'anno Perché secondo me è davvero Una grande squadra Qui ero curioso Di vedere anche Ronaldo Nel contesto Tra l'altro sta girando Anche un tiktok Di Manchester Villareal Dove Dove c'è Una palla leggermente lunga In profondità Dove c'è Ronaldo Che si ferma Sbuffando E dall'altra parte Credo arrivi Lingard Che si fa 50 metri di corsa Va a recuperare il pallone Cioè Quegli atteggiamenti lì Veramente non mi mancano Per niente Anche l'altro giorno Quando gli hanno fatto polemica Che lui dopo il paraggio con l'Everton È uscito dal campo Borbottando Come faceva con noi Questi qua sono veramente Degli atteggiamenti Bambineschi Che quelli Devo dire Che non mi mancano Per niente E ho goduto talmente tanto Dopo Juve Chelsea Juve Torino Con quelle vittorie bruttissime Difensiviste 1-0 Dove hai sofferto E poi l'hai vinta Che mi sono anche detto Queste Con Cristiano Ronaldo Non le facevamo Perché la gente Quasi si vergognava Perché vedeva Il più forte Che sbuffava Non sono convintissimo qua però Non sono convintissimo Che non le avremmo vinte Forse avremmo sofferto Ancora di più Se è possibile Ma Avremmo avuto anche Degli sbucchi diversi No no Io non ho detto Non ho detto che non le avremmo vinte Ho detto che non le avremmo vinte così Ah non da squadra sicuramente È quello che dicevo l'altro giorno Che differenza c'è tra gruppo e squadra Guarda Esatto Ed è anche la differenza Che ho detto nell'altro video Cioè Juve Chelsea E Torino Juve Non sono state due vittorie disperate No Dove Ronaldo all'ultimo Ti fa come è successo In Manchester Villareal Dove Ronaldo Ti tira fuori il coniglio dal cappello Sono state due vittorie scelte Condivise Tra allenatore e squadra Non sono state vittorie disperate Sono state vittorie brutte Non condividi la strategia dell'allenatore Non sono sufficienti La Juve dovrà fare di più Dal punto di vista tecnico Siamo d'accordo tutti Ma sono due vittorie E due prestazioni scelte E condivise E questo con Ronaldo Non potevi farlo Perché lui ti borbottava Si girava verso la panchina E cominciava a gesticolare E questo non mi manca assolutamente Domanda provocatoria Quindi le ultime due di Cristiano Ronaldo Ufficialmente in bianco nero Sono nate Dal fatto che gli allenatori Hanno tirato fuori i coglioni Dicendo Cristiano Se non vuoi fare quello che ti chiedo Facciamo senza O perché lui ha chiesto Io questa non la gioco perché c'è l'europeo Io questa non la gioco perché cado via Perché cambia tutto Io non lo so ancora Secondo me è quella con l'Udinese Per la seconda che hai detto Perché vuole andare via Secondo me sì E quella con Bologna Fabrizio Romano ti ricordi? Ne la ricordi Io ho fatto il video prima di partire La gente mi diceva Ma figurati se va via Io gli ho detto Se Ronaldo va in panchina Palesemente venduto Palesemente Anzi mi sono meravigliato Che sia entrato 100% Mi sono meravigliato del suo ingresso E quella contro il Bologna Non mi ricordo L'ultima l'anno scorso L'ultima l'anno scorso Però comunque Gli europei mancavano tre settimane Nel senso Sì però La motivazione ufficiale È che Cristiano era stanco Doveva recuperare Era l'ultima partita della stagione Da dentro fuori in Champions Era stanco E ovvio che vedendo poi l'epilogo Ti fa E quest'anno E quest'anno con l'Udinese Scelta tecnica La motivazione ufficiale Oh ragazzi insomma Io credo che lì Credo che lì si fosse arrivati Veramente a una rottura La classica rottura In cui le parti Non c'era bisogno Di dirsi niente Ma io mi ricordo Il punto di rottura Io lo so Ma è venuto fuori È venuto fuori Che questo qua Andava a fare palestra Quando c'erano le sedute tattiche Cioè Ragazzi Il punto di rottura È il porto Quando succede questo Sì Probabilmente Da quella barriera Col porto Lui Ha finito Di pensare A Juventus Forse è vero Perché la partita dopo Fa la tripletta Col Cagliari E non è contento Perché la Juve ha vinto Per la sua tripletta È contento che ha dimostrato Che lui se vuole Fa la tripletta È vero Ma guarda Non ha più giocato Quella roba lì Quando un giocatore Va in palestra E non segue la parte tattica Perché non gliene frega Assolutamente niente E lì E lì non c'è né bisogno Di dire che lui Vuole andare via E non c'è bisogno Che l'allenatore Dica Guarda Tu devi stare I miei comodi Ci sei già detto Tutto Concludiamo Con questa massima Che il video È già venuto lungo E vi libero Vi ringrazio Per essere rimasti Qua Per aver creato Questo contenuto Speriamo Che possa essere Stato apprezzato Anche dai ragazzi Speriamo di aver tirato Fuori qualcosa in più Oltre la semplice chiacchiera Cioè Questo è stato È stato un video Del voler capire Perché si dicano Certe cose Perché noi tante volte Le diciamo Ma Secondo me poi Non scaviamo mai Abbastanza nel profondo Quindi ci vuole sempre più tempo Spero sia andato bene Volete dire qualcosa? No È più che altro Tanto le domande Le hai fatte E come le hai fatte a noi Che abbiamo risposto in video Loro Con un commento Un bel commento lungo però È un bel commento Beh ragazzi C'è la tua community Sotto le 4000 lettere Non ci piace Giusto È vero È vero Sono malati come me Io sono curioso di vedere Invece Chi ci segue Cosa ne pensa Della equazione Anzi Della disequazione Allegri maggiore Voglio vedere un po' La maggioranza Dove tende Benissimo Grazie ancora ragazzi I vostri link Sono qui sotto in descrizione Alla prossima Forza ragazzi